Anche il Soroptimist Club Belluno Feltre aderisce al progetto di carattere nazionale promosto dal Soroptimist International d'Italia, volto a consentire alle giovani donne in possesso di laurea magistrale in accordo con la scuola di direzione aziendale dell'Università Bocconi di frequentare gratuitamente un corso di formazione sul tema della leadership al femminile. Per dare modo a queste giovani ragazze che hanno frequentato l'università, che hanno fatto la magistrale e anche qualcuna già lavora, di rafforzare quelle che sono le proprie competenze per affacciarsi a un mondo di lavoro sempre più competitivo e soprattutto anche per le donne non sempre facili. Un'iniziativa che si svolge ormai da tempo anche in provincia, nello spirito dell'associazione impegnata in primis per la promozione dei diritti umani e il potenziamento delle donne. Quest'anno abbiamo avuto ben nuove iscrizioni quando abbiamo promosso il bando e dovevamo sceglierne una. Poi però il bando, per fortuna, anche grazie alla qualità di queste ragazze, è stato aperto anche alla seconda e alla terza classificata. In più abbiamo avuto una buona collaborazione con il Soroptimist Club di Cortina e quindi una quarta ragazza ha potuto avere questa opportunità di formazione. C'è un primo turno che è adesso a fine giugno, un secondo turno sarà a fine luglio. Dai progetti legati alla formazione, alle iniziative volte al superamento del divario di genere, alle attività culturali e ricreative. Un sodalizio che si impegna sul territorio da oltre 40 anni, favorendo al contempo una società sempre più inclusiva. A noi piace puntare sulle giovani che rappresentano sicuramente il futuro, ma poi rappresentano anche il futuro per questo club.